L'Opalco continua a rilasciare dichiarazioni alla stampa, quasi sempre a vietà assolute che nulla aggiungono dal punto di vista scientifico sul Covid-19, quando dovrebbe occuparsi di ciò per cui è pagato dai pugliesi. Tanto comunicano in una nota congiunta il commissario regionale di Forza Italia Puglia, l'onorevole Mauro Dattis e il suo vice commissario, il senatore Dario Damiani, lautamente retribuito per fare il coordinatore da task forzo regionale e non per farsi campagna elettorale con i soldi dei cittadini. Eppure l'unica attività che sta svolgendo l'Opalco è la propaganda personale, un comportamento che lede la sua credibilità scientifica perché i pugliesi non sanno più quando lui parla, se lo fa da scienziato o da candidato con Emiliano alla ricerca di voti e visibilità. Abbiamo raccolto e stiamo raccogliendo tutte le sue dichiarazioni dall'inizio della pandemia, potrebbe esserci materiale utile per le procure, vedremo. Concludono i vertici forzisti. Concludono i vertici forzisti